Oltre la Luna, qualcuno ha già visto tutto. Se si vuole costruire una vera astronave, l'Enterprise rappresenta un ottimo modello. Star Trek ci dà la speranza che in futuro riusciremo a viaggiare verso altri pianeti. Star Trek. Ritorno al futuro. Il 21 giugno su History. Star Trek. Ritorno al futuro.